Ampio soggiorno, cucina abitabile, balcone molto ampio, due camere da letto, una matrimoniale e una doppia, bagno finestrato, ripostiglio lavanderia, cantina grande, garage, posto auto nel parcheggio di fronte al condominio, secondo piano con ascensore e tutto a pochi passi dal centro di Faenza. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo, nelle vicinanze di Piazza Bologna, praticamente con tutti i servizi comodi e vicini, ma questo appartamento è situato in via Cisenatico che ha una piccola traversa, una strada chiusa, molto comoda, sicura e silenziosa. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!